Ciao a tutti e bentornati a Pillole di storia con Bop Italia. La storia di oggi è dedicata ad uno stato. Vi ricordate qualche settimana fa avevo dedicato una pillola a San Marino e molti di voi mi avete scritto perché non fare altre pillole dedicate ai microstati? Beh, in effetti la cosa mi è piaciuta perché una delle cose che mi incuriosisce di più di questi microstati, l'avevo già detto nella pillola su San Marino e come siano riusciti a sopravvivere talvolta facendo parte di stati giganteschi che ne avevano inglobati molti del tutto simili a loro eppure come siano riusciti a sopravvivere fino ai giorni nostri autonomi e riconosciuti da tutti gli altri stati senza venire mai o solo temporaneamente occupati dai loro più potenti vicini. Ora se per San Marino questo poteva essere quasi comprensibile con quella strana situazione ancora molto medievale che si trovava all'interno dello stato della chiesa che sostanzialmente la trasportò fino all'età moderna questo è molto meno comprensibile per lo stato che andiamo ad analizzare oggi. Oggi parliamo della storia del Principato di Monaco. Immagino che tutti voi sappiate che il Principato di Monaco è un piccolo principato che attualmente si trova completamente inglobato all'interno della Francia che controlla la Rocca di Monaco e la cittadina di Monte Carlo e che è molto ricco per il turismo, il casino e il fatto di far pagare poco le tasse quindi di trovarsi molte società con una sede a Monte Carlo o a Monaco. Per capire come mai il Principato di Monaco sia sopravvissuto è a tutti gli effetti necessario ricordarsi due cose. La prima è che il Principato di Monaco non nacque da una costola della Francia ma nacque bensì da una costola di una vicina repubblica cioè la Repubblica di Genova. La seconda motivazione è che bisogna ricordarsi un'altra cosa e che fino alla fine della seconda guerra di indipendenza il Principato di Monaco non confinava solo con la Francia ma bensì confinava anche con il regno di Sardegna, il regno di Piemonte e quindi con l'origine del futuro regno d'Italia cioè fino a quando in cambio dell'aiuto francese nella seconda guerra di indipendenza la Cavour e il re d'Italia Vittorio Emanuele II non accettarono di cedere Nizza e la Savoia ai francesi. Insomma il Principato di Monaco non è sempre stato completamente inglobato nella Francia ma lasciamo che vi racconti. La storia della Rocca di Monaco nasce all'incirca tra l'anno 1000 e il 1100. Sulla Rocca di Monaco venne infatti fondato un castello, la Rocca vera e propria, e venne fondato proprio dalla Repubblica di Genova che riconosceva Monaco come il suo caposaldo più occidente cioè il confine più occidentale del suo territorio ovviamente in Italia perché poi vi erano terifondachi in Crimea e ben altrove. Ebbene la Repubblica di Genova così come tutti i comuni, le signorie in Italia nell'epoca viveva di grandi scontri in particolare tra le famiglie nobili locale che erano divise tra i Guelfi e i Ghibellini. Una delle famiglie più nobili di Genova di più antica origine peraltro cioè i Grimaldi erano di famiglia Guelfa e così come tante altre famiglie dell'epoca per tutto al nord Italia si trovavano talvolta al potere, diedero anche dei doji alla Repubblica di Genova, talvolta invece si trovavano dal lato degli sconfitti, a volte cacciati, a volte allontanati, con le proprietà confiscate, costretti magari a cercare di rientrare a Genova con la forza. Perché vi racconto questo? Beh perché proprio la famiglia Grimaldi dall'8 gennaio 1297 ha intessuto i rapporti con il Principato di Monaco, tanto che ancora oggi un Grimaldi, seppur solo di noi ma non realmente discendente da quella famiglia, governa ancora sul Principato. In realtà non è giorno, la nostra storia inizia infatti l'8 gennaio 1297 di notte. Ce la possiamo immaginare una notte buia, una notte magari con poca luce perché è pieno inverno, magari piove e proprio quella notte un gruppo di monaci si avvicina alla rocca chiedendo ospitalità. Appena i monaci però entrano dentro la rocca sguainano le spade, si liberano dei loro sai e prendono possesso della rocca scacciando le guardie emesse appunto dalla Repubblica di Genova. A capo di quegli uomini vi è proprio un membro della famiglia Grimaldi, Francesco Grimaldi, che per questa sua azione sarà detto l'astuto oppure malizia. Ora io in questa storia, non so voi, ma ci vedo quell'ispirazione che fece dire, fece creare a Martin il personaggio di Lann e l'astuto, cioè colui che creò la famiglia Lannister, ma questo è secondario. C'è una rocca, c'è un modo strano di prenderla, ma è secondario. Quello che è importante è che a cominciare da Francesco Malizia, Grimaldi, i Grimaldi inizieranno a governare sulla rocca. In realtà non direttamente i suoi discendenti perché Francesco Grimaldi morirà di lì a pochi anni senza discendenti maschi, ma quelli del cugino. Nei primi anni ovviamente l'occupazione della rocca non fu riconosciuta da Genova, che però alla fine decise di accettare quell'occupazione che peraltro i Grimaldi avevano già esteso anche i territori vicino, occupando le cittadine di Menton e di Rocca Bruna, che divennero parte del Principato. Da lì in poi i Grimaldi iniziarono una politica di vicinanza presso le grandi potenze. Perché? Beh, se ci pensate, ovviamente il Principato era molto piccolo, si trovava vicino a stati più grandi, prima il Ducato di Tolosa, poi il Ducato di Provenza, vi era comunque sempre Genova molto vicino e poi ci sarà la Francia. Però, e quindi il Principato aveva bisogno di qualcuno che lo proteggesse. Però questa protezione allo stesso tempo poteva dare qualcosa al protettore, perché ovviamente la rocca di Monaco insisteva su un'ansa naturale, dove era possibile fermare le proprie navi. Quindi chiunque proteggesse il Principato di Monaco nei fatti si assicurava un porto nella Francia meridionale. Dal 1400 circa, il primo di questi protettori del Principato di Monaco, una volta venuta meno l'importanza della Repubblica Genovese e ovviamente con tutti i rischi di essere assorbiti dalla Francia, che proprio in quegli anni stava finita la guerra dei cent'anni riassorbendo tutti i vari ducati che componevano un tempo al regno, ebbene il primo dei protettori della Rocca di Monaco fu la Spagna. La protezione della Spagna permise al Principato di Monaco di superare proprio questa fase e di giungere fino a metà del 1600, quando con la diminuita importanza della Francia stessa, della Spagna stessa, a sostituirsi nel ruolo di protettori fu proprio la Francia, che oramai non aveva più grossi interessi ad inglobare un così piccolo Principato, ma che preferiva tenerselo come alleato. Anche perché quando vi fu invece un tentativo di annessione al termine della guerra di successione spagnola col trattato di Utrecht, l'Inghilterra, che era stata chiamata peraltro a dare un suo parere, diede ragione alla Rocca, che era stata richiesta in annessione sia dal regno del Piemonte che dal regno di Francia, mentre l'Inghilterra aveva dato ragione ad entrambi. La protezione francese però fu forse meno funzionale rispetto a quella spagnola. Dopo la rivoluzione francese infatti le truppe della Francia repubblicana scacciarono i Grimaldi dalla Rocca, installarono un governo ovviamente repubblicano nel Principato che venne annesso alla Repubblica francese, i Grimaldi rimasero lontani fino alla restaurazione, col trattato di Vienna infatti il Principato, che peraltro come detto era già riconosciuto da altre grandi potenze come la Spagna e l'Inghilterra, venne ricreato nella sua autonomia. Autonomia che ricordo comprendeva anche delle altre città, non solo l'attuale Rocca di Monaco ma anche appunto Menton e Rocca Bruna. Queste due città però non rimasero a lungo nel Principato. Nel 1848 infatti ci fu una rivolta in queste città che si crearono a città libera, d'altronde era il 48, e con un accordo chiesero l'annessione al vicino Regno del Piemonte che d'altronde era più ricco e gli dava più possibilità di sviluppo economico. Con la cessione poi delle terre dal Regno del Piemonte a Napoleone III, quindi alla Francia, queste città passarono alla Francia e Napoleone III si limitò a versare un pagamento di 4 milioni di franchi al Principato di Monaco in cambio di quelle terre. Monaco e la famiglia Grimaldi si trovavano così nel loro momento peggiore. Avevano perso praticamente l'80% del territorio del Principato, non solo ma avevano perso in realtà le terre più ricche. Quello che rimaneva loro era sì un'importante insenatura ma con un piccolo porto, una rocca con un castello senza alcuna ricchezza. insomma sembrava che il Principato stesse lentamente spegnendosi. Invece nel corso dell'Ottocento il Principato di Monaco conobbe una nuova crescita. Questo perché si iniziò ad investire con l'arrivo della ferrovia molto fortemente sul turismo, ovviamente il turismo ricco, il turismo di chi già nell'Ottocento si spostava, cioè appunto i ricchi, costruendo peraltro il primo casino che venne costruito sulla rocca e poi spostato nella cittadina di Monte Carlo, dal nome peraltro del principe che diede vita a questo rinascimento, ebbene iniziarono ad attirare i turisti e con i turisti arrivarono i soldi e lentamente il Principato di Monaco divenne una meta sempre più richiesta dal turismo ricco ma anche sempre più ricca. Con la crescita di Monaco ovviamente arrivarono i problemi. Il primo grande problema si ebbe nel 1918-1919 quando ci fu una gravissima crisi dinastica. A quel tempo il principe di Monaco infatti non aveva eredi e sembrava che il trono dovesse andare a un principe tedesco, che era cugino imparentato con la famiglia Grimaldi ma che a tutti gli effetti era un principe tedesco, residente nel Wittenberg, tenutaro del castello di Liechtenstein, insomma un tedesco a tutti gli effetti che aveva addirittura combattuto nella prima guerra mondiale dal lato tedesco e la cosa ovviamente non poteva piacere alla Francia che anzi proprio in quell'anno fece una sostanziale presa di potere all'interno del Principato obbligando il Principato a rivedere la propria legge di successione. Sembrava che la Francia potesse far qualcosa per annettare il Principato e per questo il principe improvvisamente ebbe una genialata, ebbe un'idea geniale. Si decise infatti a riconoscere una propria figlia Charlotte che aveva avuto in passato con una donna del popolo francese quindi assolutamente non nobile e si decisa a riconoscerla come figlia legittima lasciando a lei il dominio del Principato. Esisteva infatti una legge molto antica medievale che prevedeva che qualora non ci fosse un figlio maschio una figlia femmina potesse ereditare il Principato ma in quel caso il marito di lei avrebbe dovuto assumere il cognome Grimaldi e con lui tutti i loro figli. Il Principato conobbe, come tutta la Francia, l'occupazione nazista, fu in buoni rapporti con la Francia di Vichy a cui più volte chiese protezione per evitare di essere riannesso all'Italia e fu poi occupato dagli italiani quando poi la Francia di Vichy venne sgomberata e quindi dopo l'8 settembre del 43 dai tedeschi. Ma questo solo dal punto di vista politico perché in realtà grossi rapporti con i tedeschi il Principe ci aveva già da prima della guerra e durante la guerra il Principato divenne sostanzialmente la sede di moltissime aziende tedesche, di moltissimi complotti anche tedeschi che utilizzavano il Principato così come utilizzavano la Svizzera come dei porti franchi con cui commerciare con gli stati con cui erano in guerra e con cui vi erano problemi, delle fonti di valuta fresca. Erano talmente intessuti i rapporti tra i due stati che addirittura quando alla fine della guerra vi furono dei sequestri sulle proprietà, i soldi dei gelarchi nazisti, se ne trovarono addirittura di più nel solo Principato di Monaco rispetto a quelli che si trovarono invece in Francia. Questo comportò che alla fine della guerra il Principe venne obbligato a rinunciare al trono e al suo posto salì al potere Grimaldi, Grimaldi Ragneri, chiedo scusa, Ragneri III Grimaldi, che peraltro durante l'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale aveva addirittura combattuto come volontario insieme agli alleati, in realtà dopo che questi avevano occupato il sud della Francia e liberato il Principato, ma questo volendo è secondario. Ragneri sarà colui che trainerà il Principato di Monaco nella modernità, darà vita ai grandi progetti di espansione, perché il Principato di Monaco è tornato a espandersi costruendo sul mare, l'unico posto dove può farlo, sarà colui che completerà quel processo che darà al Principato di Monaco grande ricchezza, grande notorietà in tutto il mondo, sposando peraltro un'attrice all'epoca molto famosa, cioè Grace Kelly, e trasformando un piccolo Principato quasi in una favola in cui tutte le casalinghe si potevano riconoscere. Insomma, un piccolo Principato nato da una repubblica, sopravvissuto a una repubblica, quella francese, che in qualche modo è riuscito a sopravvivere quando tanti altri territori più grandi, come il Ducato di Provenza, furono assorbiti dalla Francia, sempre grazie alla capacità dei Grimaldi, nei vari rami che la governarono, di rimanere bilanciati tra tutte le potenze vicino, una regola che dopo tutto vale per molti dei microstati di cui possiamo ancora vedere i resti nel mondo. Bene, spero che questa pillola vi sia piaciuta, se vi piace magari in futuro ogni tanto potremo fare altre pillole andando ad analizzare altri microstati, magari fuori dall'Europa al prossimo, perché ce ne sono anche lontani dall'Europa, a volte con storie un briciolino più corte. Intanto ci fermiamo qua, spero che vi sia piaciuta, nel caso iscrivetevi, lasciate un mi piace. Io come al solito vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti fantastici, storie incredibili in cui nessun scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare tra queste storie, qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Noi ci vediamo domani con un'altra pillola. A domani. Ciao ciao!